Ciao, sono Angela di BSC Designer. Questo è un altro tutorial che aiuterà i nostri nuovi utenti a sbloccare appieno il potenziale del software. Parliamo del caso in cui non si abbia ancora una strategia e quindi un team deve elaborare un nuovo piano strategico. Ad esempio, immagina un team che si occupa delle innovazioni dell'azienda che deve articolare i diversi aspetti della strategia. Vediamo come BSC Designer può essere d'aiuto in questo caso. Clicca su Nuovo e poi su Nuova Scorecard per accedere a uno strumento chiamato Procedura guidata della Scorecard strategica. Lo abbiamo realizzato per svolgere il lavoro di consulenza strategica, in modo da aiutare il tuo team a seguire al meglio le fasi del processo di pianificazione strategica. Prima di avviare la procedura guidata, dai un'occhiata ai modelli disponibili nel software. Alcuni di essi potrebbero essere già focalizzati sulle problematiche che pianifichi di affrontare. Il software consente di creare una scorecard mediante uno di questi modelli e poi di utilizzare lo strumento della procedura guidata dal menu degli strumenti. Elaboriamo il caso più complicato, ovvero quello in cui non vi sia un modello che potrebbe aiutare. Per avviare la procedura guidata, seleziono questa opzione e clicco su Crea. La guida si avvia in pochi secondi. Se si utilizza la procedura guidata per la prima volta, una buona idea è quella di attivare l'opzione Compilare risposte con i dati di esempio. Inoltre, se alcuni membri del tuo team vogliono aggiornare le proprie conoscenze sul processo di pianificazione strategica, possono cliccare su questo link per visionare l'articolo in cui parliamo del processo di pianificazione strategica passo dopo passo. Clicchiamo su Inizia. Lo strumento ci mostra sulla destra tutti i passaggi della pianificazione strategica. Ora siamo alla prima fase, ovvero la definizione degli obiettivi commerciali. La prima domanda che il software ci pone riguarda il valore che vogliamo creare per i nostri stakeholder. Pensando per esempio a qualche innovazione, la domanda è perché stiamo lavorando a questa innovazione e quali sono i benefici previsti per gli stakeholder? La risposta a questa domanda non è per nulla scontata. Per aiutarti ad avere qualche idea, il software ti suggerisce di pensare a diverse strategie, ovvero migliorare la qualità del prodotto, migliorare il servizio clienti, oppure raggiungere l'eccellenza operativa. Inserisci la tua risposta nell'apposito campo di testo e clicca su Successivo. Nel passaggio seguente, la domanda è diversa. Ora il software ci chiede come intendiamo lavorare sulle idee suggerite. Anche l'elenco delle strategie consigliate è cambiato. Clicchiamo di nuovo su Successivo. Ora le domande si concentrano sulle competenze di cui ha bisogno il tuo team e sull'infrastruttura di cui necessita la tua azienda per raggiungere gli obiettivi prefissati. Clicchiamo di nuovo su Successivo. Ora dobbiamo indicare i nostri obiettivi finanziari. E se non ci fosse un obiettivo finanziario ben preciso alla base del progetto su cui sta lavorando il tuo team? In questo caso, pensa agli stakeholder della tua strategia. Ad esempio, se stai lavorando a dei prodotti finalizzati ad un uso interno al contesto aziendale, allora i tuoi stakeholder saranno gli altri reparti dell'azienda. Gli stakeholder delle organizzazioni senza scopo di lucro invece sono la società in generale ed alcuni gruppi sociali specifici. Se non sei sicuro della risposta da inserire, puoi saltare questo passaggio cliccando su Successivo e potrai aggiungere gli obiettivi in seguito. Nella fase successiva, il software ci suggerisce di guardare alle stesse quattro prospettive, ma focalizzandoci ora sugli indicatori di prestazione. Qual è il ruolo di un indicatore di prestazione? Gli indicatori ci aiutano a definire molti parametri. La cosa più importante è che ci aiutano a definire meglio gli obiettivi commerciali, quindi ci aiutano a comprenderli appieno e ad essere in grado di spiegarli agli altri. In questo caso il software mi chiede di definire gli indicatori Leading e Legging. Qual è la differenza? Nel contesto di questo obiettivo aziendale, possiamo definire i fattori di successo e i risultati attesi. Ad esempio, se il nostro obiettivo è quello di migliorare l'esperienza del cliente con una nuova funzione, il fattore di successo è che i clienti la provino e i risultati attesi sono quantificati dal numero di clienti che hanno iniziato ad utilizzarla regolarmente. Quantifichiamo i fattori di successo con gli indicatori Leading, ovvero quegli indicatori che predicono il successo, ad esempio la percentuale di clienti che hanno provato la nuova funzione. Per quantificare i risultati attesi, utilizziamo gli indicatori Leading, come ad esempio l'indice di soddisfazione del cliente. Specifica gli indicatori Leading e Lagging e poi clicca sul successivo. Se non sei sicuro della risposta da inserire, lascia vuoti questi spazi. Ora premiamo più volte il pulsante successivo e passiamo alla fase di definizione dei piani d'azione. In precedenza abbiamo definito un obiettivo aziendale e abbiamo specificato il modo per misurare i nostri sforzi nel raggiungimento di questo obiettivo e per quantificare i risultati raggiunti. Cosa bisogna fare per raggiungere questo obiettivo e per spostare gli indicatori nella zona verde? Se hai in mente un piano d'azione, scrivilo qui. Clicca sull'opzione Aggiungi ulteriori dettagli se hai un'idea del budget richiesto o del tempo necessario. In alcuni casi il piano d'azione sarà definito in futuro ma possiamo scrivere la ragione alla base di questo obiettivo. In altri casi potresti già avere un'ipotesi che vuoi testare. Puoi scrivere queste idee in questo passaggio. Adesso passiamo all'ultima fase. Qui il software mi ricorda che i risultati della procedura guidata possono essere modificati manualmente e che posso utilizzare di nuovo lo strumento per raggiungere più obiettivi ed indicatori. Clicchiamo sul pulsante Termina e vediamo i risultati. Come puoi notare, in base alle nostre risposte è stata realizzata in modo accurato una scorecard strategica con i nostri obiettivi, i KPI e i piani d'azione. Il software ha anche valutato il punteggio della qualità della mappa strategica creata. Ovviamente lo strumento non può valutare la qualità degli obiettivi e delle iniziative che abbiamo formulato ma è stato in grado di valutare il livello di descrizione della strategia. Cliccando sull'indicatore della qualità potrai anche vedere alcuni suggerimenti per migliorarla. Se decidi di aggiungere qualcosa in più puoi farlo direttamente nella scheda della mappa strategica oppure passando alla scheda dei KPI. O si può anche attivare di nuovo la procedura guidata della strategia tramite l'apposito comando sul menu Strumenti e Assistente per la strategia. Quando la strategia è pronta procedi aggiungendo altri dati e utilizza questa mappa strategica durante le sessioni periodiche del tuo team.